Distraggono gli automobilisti, gettando monete a terra li derubano. La polizia a Torino ha arrestato tre persone. Il metodo era collaudato, aveva fruttato alla banda denaro, telefonini, macchine fotografiche e tablet, tutto materiale contenuto nelle borse e sottratte a dignari cittadini mentre raccoglievano da terra delle monete, ai quali facevano credere che fossero cadute a loro. Nel video si vede proprio un colpo messo a segno. Una volta individuata la vittima, i due complici si appostano vicino alla sua auto parcheggiata e mentre il primo fa finta di camminare, il secondo lascia cadere a terra delle monete. E quando il malcapitato ha già aperto la macchina e ha appoggiato la borsa sul sedile, la sua attenzione viene attirata da qualcuno che gli fa notare che forse gli sono caduti dei soldi. La vittima torna indietro per raccoglierli e proprio in quel momento il ladro prende la borsa dal sedile e si allontana. La vittima si accorgerà solo troppo tardi di essere stata derubata.